Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Profile 3x Strutture Deck Fire King Ovviamente con le carte OCG Poi quando uscirà la versione TCG Ovviamente faremo l'anteprima deck profile anche di quella Potrebbero cambiare delle carte staple Potrebbero cambiare Droll, Impermanence e Alpha Tra l'uscita OCG e TCG Però ovviamente il core, le carte nuove e le reprint rimaranno quelle Quindi più o meno saranno abbastanza simili Noi come sempre facciamo prima OCG e poi TCG Prima di iniziare ragazzi come sempre invito a iscrivervi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati con il mondo di Yuki Mi raccomando ragazzi è importantissimo La descrizione ci aiuta veramente tanto Grazie mille e partiamo 2x del Garonix vecchio Forte perché in stand by entra se viene spaccato Devasta tutto quanto In 3x è troppo anche perché poi non gioco neanche barato Perché barato è più Ash che altro Quindi è veramente complicato Però ovviamente è molto buono 3x del King Garonix nuovo Fortissimo si evoca la Diabolos Molto forte perché quando si evoca Ci spacca dal mazzo E spaccando dal mazzo Oltre a pomparsi Fa triggerare Arvada Fa triggerare Barong Fa triggerare Ponix Fa praticamente triggerare tutto quanto Ponix molto buono perché poi ci ritorna in mano E possiamo sfruttarlo ulteriormente Perché se ci spacchiamo una carta Questo entra e ci permette di aggiungere maggio trappola Veramente molto molto forte 3x di Kirin Altra carta veramente forte Perché ci consente anche di giocare al turno dell'oppo Durante la main phase Se nella mano possiamo spaccare un mostro fuoco nella mano Oppure scoperto sul terreno ed evocarlo Se poi viene distrutta e mandata al cimitero Possiamo specialare un Fire King dalla mano O cimitero all'eccezione di lui E poi spaccare una carta Potenzialmente può fare anche una buona interruzione Possiamo anche spaccarcelo dal mazzo appunto Per far triggerare il suo effetto E quindi evocare specialmente un Fire King dalla nostra mano Veramente molto molto buono Possiamo spaccare una carta sul terreno Potremmo spaccare una carta per fare interruzione all'oppo Oppure spaccarci una carta per farci partire degli effetti Molto molto buono Il 2x di Anuman Anuman se viene spaccato un mostro Di archetipo Si evoca specialmente E fa da negate Fa un po' di come Arvata Soltanto che nega maggi e trappola Il problema è che è pesante Perché se lui si spacca non fa niente Quindi ha un negate buono Però potrebbe risultare pesante Quindi il 2x secondo me va bene Si potrebbe anche giocare in un 1x al limite L'ho lasciato in 2x perché in 2x è un po' più Un po' più consistente nel 3x Però insomma non è una di quelle carte che devi mettere in 3x In 3x devi mettere il Ponyx Perché è uno starter Perché ogni qualvolta si spacca alla standby Dopo si riprende in mano Se ci viene spaccato un mostro di attributo fuoco originario Lui entra in campo Quando viene evocato un normal o special Ci aggiunge maggio trappola d'archetipo Ci aggiunge praticamente tutto Ci aggiunge tutto quello che ci serve Ci aggiunge anche l'interruzione che è fortissima Quindi veramente molto molto buono E lui insieme a Barong sono aggiunte continue a ripetizione Quindi veramente molto molto forte Arvata che fa da negate In più se viene spaccato anche dal mazzo Ci consente di evocare dal cimitero roba Il mazzo ogni volta si spacca Evoca mostri Anche al turno dell'avversario C'hai tantissime creature Riesce a farti veramente una bella A bordo di quelle impressionanti Con tanto di riciclo in mano Anche Barong appunto Se viene spaccato ci ricicla roba E poi vabbè Se un Fire King viene distrutto Dall'effetto di una carta Possiamo evocarlo specialmente Barong in 3x Perché comunque l'effetto parta anche 3 volte Perché non dice una volta per turno Fondamentalmente non dice neanche once per turno Quindi carta veramente molto molto forte Qui in 3x A spaccartelo a ripetizione Molto forte 3x di troll Perché comunque è una carta che serve Il 3x della Fire King Island Ci spacca aggiungiamo Molto forte anche con Ponix Perché con Ponix Poi te lo vai a spaccare Ti vai ad aggiungere un Fire King che ti serve E quindi Carta veramente molto molto forte 1x dell'Oslot of the Fire King Perché È una carta che serve Però in 3x è pesante Perché Puoi partire primo Puoi partire secondo E in realtà puoi anche Avere mostri nel turno dell'avversario Quindi è una carta insieme a Rekindling Che in 1x la vedo molto bene Perché sono soluzioni Proprio diciamo in extremis Più che altro utilizzo le carte per fare le combo Anche Circle of the Fire King Un'altra carta Che può risultare utile Ma non fondamentale Questa è diciamo che è una tripletta Interessante Poi vabbè Potrete anche cambiare Mettendo Tarkul Mettendo Tributo Torrenziale Io vi dico perché non l'ho messo Oppure anche la Counter Flamwell Potrete mettere Comunque Ora vi dico perché non l'ho messo Poi 3x del Sanctuary Fortissimo perché ci setta anche la terreno Fortissimo perché ci può fare l'Xis al turno dell'Oppo L'Xis al turno dell'Oppo Vuol dire evocare lui E spaccare tutti i mostri sul terreno Altra interruzione Magari se non riusciamo a spaccare tutto con Garonix Ci proviamo con l'eternità Garonix Quindi carta veramente molto forte 2x del Fire King Sacred Immolation Targettiamo tanti numeri Tante creature Quante quelle dell'avversario che controlliamo Quindi targettiamo tanti Fire King Quanti sono i mostri dell'avversario Due o due Quanti ce ne pare E li spacca Forte perché ti fa sia da Darkul Che dal Tributo Torrenziale E' vero che tu targetti E' vero che tu targetti Però tu puoi farlo Nel turno dell'avversario A differenza di Darkul Quindi fondamentalmente E' un Darkul e Tributo Torrenziale insieme Che prendono meno spazio Se volete essere più bastardi Mettete tutto quanto Però se mettete tutto quanto Diciamo che potrebbe non partire sempre la combo E poi se la nostra Sono più Fire King Che controlliamo E stanno per essere sotto in battaglia D'effetto di una carta Possiamo invece bandire questa carta Tra l'altro Scusate Del Sanctuary fa anche da protezione per la terreno Che se sta per essere distrutta Noi ci spacchiamo invece un Fire King Quindi evitiamo che la terreno ci fa Araghiri Però spacchiamo il nostro Fire King Che poi fa triggerare gli effetti Fare Immolation E' molto forte Tirata nel momento giusto E' ottima Veramente molto molto buona Secondo me 3x è pesantissimo 3x è pesantissimo 2x va bene Anche perchè poi è addabile Quindi è ottima E poi ci consente di Di far partire gli effetti E tutto il resto Quindi buono Buono Vero è traghetta però È forte Formazione di fuoco tank Questa l'abbiamo detta Poi la Solidarity In 1x è molto buona Perchè ci consente di evocare Specialmente Una bestia a fuoco Un bestia guerriero fuoco E una bestia alta fuoco Uno da mano Deck E cimitero Effetti Negati Però E li spacchiamo in end phase Però ci fa un 3x1 Che è molto importante Poi se possiamo attivare Anche questa Tanto di cappello O comunque Ce li possiamo spaccare Per triggerare gli altri effetti E' molto forte Poi possiamo bandirla E nel turno dell'avversario E l'avversario In questo turno Non può attivare Carte ad effetti Nelle evocazioni Dei fire king Quindi Molto buona 1x tranquilla Decente Fa il suo lavoro Molto buona 2x 3x Lasciamo stare Ho provato tutte le combinazioni possibili Questo è il ratio Più giusto Per me ovviamente È il ratio più giusto E poi 3x di infermanence Ovviamente Si possono mettere Anche queste altre carte qui Un altro Osloot Vabbè poi Dogorian Ah il true king È vero che Potrebbe essere buono Ma Capito Spiegazione tattica Anche il colosso Non è male Neptis Per spaccare Maggia e trappola E alfa Per Far rimbalzino Se l'avversario C'ha roba Che non può essere spaccata Facciamo rimbalzino Poi abbiamo Il 3x del garonix Che spacca tutto Se viene spaccata Evochiamo specialmente Al cimitero Mostri Pare al numero Di materiali Che aveva Stacchiamo materiale Spacchiamo Maggia e trappola Fortissimo E poi Gli altri mostri Da extra deck Che comunque Fanno il loro lavoro Quando serve Detto questo Ragazzi Mazzolo Forte Forte Io ve lo dico In questa versione Mi sono trovato un sacco Bene Tranquilla Semplice Vabbè Il mazzo Con le triplicate Credo che avrà Il suo massimo splendore Però così Mi piace veramente Veramente Tanto Bello Completo Con una Questa è una Side Non propriamente Side Perché sapete Vi metto le carte Le altre carte Potrebbero essere inserite Però mi ci trovo Veramente Veramente Tanto bene Detto questo Ragazzi Fatemi sapere Cosa da pensare Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video E un saluto a tutti